Allora, io sono molto lieta di essere qui e non farò una conferenza vera e propria, ma quello che farò sarà di condividere con voi alcune impressioni molto forti che io ho avuto quando sono venuta a vedere questa mostra sul vorticismo per la prima volta. Impressioni, devo dire, molto forti e anche emozioni molto forti che sono incominciate davanti a questa scultura. Che, come mi ha detto il direttore Professor Rylance quando sono arrivata qui, è storta perché gli avevano mandato le misure sbagliate dal museo, nel senso che dovrebbe essere in verticale e invece un po' obliqua. Questo però non impedisce affatto, secondo me, di vedere questa scultura nella sua importanza anche storica, se volete, e nella sua importanza, nell'importanza che ha avuto per il poeta Ezra Pound. E quasi tutte le osservazioni che farò riguarderanno soprattutto Ezra Pound, il suo rapporto con il vorticismo e in fondo anche cercherò di far vedere come dietro a quasi tutte le opere che ci sono in questa mostra ci sia Ezra Pound. Ezra Pound arriva a Londra, dall'America, non per la prima volta in Europa, nel 1909 e ci resta fino al 1920. Nel 1920 va a Parigi e poi si trasferisce a Rapallo. Io non vi racconto l'intera vita di Pound, però vorrei sottolineare che gli anni tra il 1910 e il 1920 sono anni cruciali per le avanguardie di Londra. Diciamo di Londra, però ricordiamo sempre che le avanguardie di questo periodo non sono assolutamente mai nazionali, sono assolutamente internazionali e transnazionali. Perché? Perché esiste un rapporto tra artisti al di qua e al di là dell'Atlantico, esistono moltissime little magazine, piccole riviste, che nascono nei posti più strani e che pubblicano le avanguardie. Vi faccio un esempio. Mentre è logico aspettarsi delle riviste di avanguardia a Parigi, a Londra, a Roma, a Monaco, a Berlino, uno non si pensa che ci sia una rivista di avanguardia, per esempio a New Orleans, nel sud degli Stati Uniti. Invece, guarda caso, anche a New Orleans negli anni 20 c'è una rivista di avanguardia che pubblica, fatto degli esempi, le primissime opere di Hemingway, di Faulkner e da Gertrude Stein. Questo solo per sottolineare come ci sia questo rapporto veramente transatlantico in tutti questi momenti. Tra il 10 e il 20, quindi, Pound è a Londra, dopo va a Parigi, sarà alcuni anni a Parigi e poi passerà a Rapallo e poi non ce ne occupiamo più. Ora, Pound chiama i suoi cantos nel 1955, non nel 1914-1920, ma nel 1955, quindi a distanza di 40 anni da quest'opera che è 1913-14, chiama una parte dei suoi cantos, cioè i cantos dall'85 al 95, cioè dall'85 al 95, chiama questa sezione dei suoi cantos Rock Drill de los Cantares. Titolo che è già molto poundiano perché avete Rock Drill, che è il titolo della scultura, de los Cantares, che ovviamente è spagnolo. Quindi questa mescolanza di lingue e di linguaggi è già molto tipica di tutte le avanguardie di Pound. La domanda che uno si fa è perché un pound, a distanza, ripeto, di 40 anni, intitola questi dieci cantos pubblicati nel 1955 Rock Drill. E qui, secondo me, è molto importante considerare che cos'è questa scultura. E considerare questa scultura, che è di Epstein, come loro già sanno, considerare questa scultura con il suo titolo inglese. E insisto su questo perché Rock Drill, Rock ovviamente vuol dire roccia, e drill è questo aggeggio che è il trapano. In italiano questa cosa si chiama martello pneumatico, ma se noi chiamiamo martello pneumatico Rock Drill, perdiamo tantissime di queste connotazioni che ci sono nell'inglese, a partire da roccia, Rock. Rock è un materiale duro, che viene trapanato, fatto a pezzi, fatto a frammenti, dal drill, cioè dal trapano. Se abbiamo un martello pneumatico, l'effetto è lo stesso, ma dal punto di vista linguistico, uno ci aggiunge pneuma, ma non c'è questa idea della roccia. E pensate, Rock, come proprio lessico, è una parola che è addirittura biblica, su questa roccia costruirà la tua casa, cioè dà l'idea di qualcosa di veramente molto duro e molto forte. Che cosa fa il drill, il trapano di questa roccia così dura, la frammenta, la fa a pezzi. Allora, quando Pound pubblica i suoi, dall'85 al 95, i suoi dieci cantos, intitolati Rock Drill de los Cantares, lui si ricorda ancora di questa scultura straordinaria che dà l'idea di fare a pezzi una roccia dura. Che cosa? Fare a pezzi la grande tradizione, che è quello che stanno facendo le vanguardie nel 10, nel 12, nel 14, no? Le vanguardie stanno frammentando, facendo a pezzi, i codici della rappresentazione nella scultura, nella pittura e nella poesia e nella letteratura. Cioè il messaggio, se volete, di tutta questa mostra, anche quello, Blast, Blast, si chiama la rivista di Wyndham Lewis, no? Cioè scoppio, qualche cosa che frammenta, che frammenta la tradizione. Io sono persuasa, io non posso provarlo, ma sono persuasa che quando Pound pensa a questo titolo, ripeto, a distanza di 40 anni da questo oggetto straordinario, ha in mente questa idea della frammentazione. La frammentazione che è il principio, se volete, di base della poetica di queste avanguardie, perché la frammentazione della tradizione è naturalmente la ricostruzione di una nuova tradizione attraverso i frammenti. Ricordate il verso di T.S. Eliot? These fragments I have shored against my ruin. Questi frammenti ho ammassato contro la mia rovina. Cioè il puntello è il frammento. La nuova tradizione si costruisce con i frammenti di quella vecchia. Allora io credo che quando Pound chiama Rock Drill de los Cantares i suoi Cantos ha in mente questa scultura che appunto mostra quest'uomo con il trapano che frammenta la roccia. Nel 1950 esce anche una recensione di Wyndham Lewis alle lettere di Pound che ha un titolo analogo, ma io credo che proprio il fondo sia quest'idea del frammentare la tradizione e ricostruirla con i frammenti. Ripeto, I have these fragments I have shored against my ruins. Questo oggetto che noi vediamo qui è, come forse loro già sanno, la ricostruzione che è stata fatta da Ken Cook e Anne Christopher dell'oggetto originale che nel catalogo, se leggete il catalogo, c'è stato dismantled, è stato fatto a pezzi, come si potrebbe dire, non distrutto, smantellato, smantellato. Ed è una ricostruzione che è fatta appunto con una resina e con non gli oggetti originali, ma che secondo me dà molto bene l'idea di questa immagine, di questo uomo e di questa macchina che fa a pezzi la roccia. Naturalmente in questo Rock Drill c'è tutta la poetica della macchina e quindi la poetica di questi anni, la celebrazione della macchina, la celebrazione della distruzione. La celebrazione della distruzione che ricordo fino a intorno il 1915, scusate, dopo il 1915 diventa veramente la, come potrei dire, l'idea che la grande guerra, la prima guerra mondiale ha distrutto. Allora, noi dobbiamo fare un passo indietro. Pensate ai futuristi che dicono guerra, sole, igiene del mondo. Pensate anche ai vorticisti. Pensate a questa forte spinta idealistica che spinge poeti inglesi e americani a partecipare alla prima guerra mondiale. Hemingway, Cummings, Dos Passos dall'America, diventano autisti di ambulanze. Tutti cercano di partecipare per questo ideale di democrazia. Venno ma riposto non importa, c'è questo ideale. Però dopo le grandi battaglie del 15, questo ideale in un certo senso scompare e si ha la sensazione che sono morti tanti giovani, che la guerra ha operato troppe distruzioni. Per un momento vedremo l'altro grande oggetto che ci indica questa cosa. Prima di passare nell'altra stanza. Quindi guardiamo bene questo rock drill, questa macchina che distrugge la roccia e la tradizione e con cui poi si ricostruisce invece la tradizione. E non farò nessun commento, ma guardate dietro di voi i quattro o cinque, quattro mi sembra che siano, ritratti, fotografie, fatti da Coburn, di cui parleremo però nell'ultima stanza. Questi sono ritratti di Wyndham Lewis, se mi ricordo, di Epstein, di Pound e sono ritratti, diciamo, fotografie abbastanza tradizionali, bellissime, ma abbastanza tradizionali. Di questo autore delle fotografie parleremo, ripeto, nell'ultima stanza per vedere l'innovazione che lui porta nel linguaggio della fotografia. Adesso io vorrei con voi passare nell'altra stanza, dove ci fermiamo a guardare la seconda versione di questo oggetto, e cioè quello che si chiama torso. Passiamo di là e poi riprendiamo le nostre osservazioni. Questa scultura è sempre di Epstein ed è un'altra versione della scultura che abbiamo visto. Che cosa ha però di fondamentalmente diversissimo? È che questa scultura, come ha illustrato, come si chiamava, Cork, Richard Cork, durante il convegno che è stato fatto a Santa Margherita in occasione dell'inaugurazione della mostra sul vorticismo. Questo torso è ormai un torso privo, cioè di un braccio, di una mano, monco, con una visiera che impedisce di vedere il viso del personaggio ritratto. Cioè qui noi abbiamo, non abbiamo più l'intera persona con le braccia e le gambe, come c'era nell'altra scultura. Abbiamo soltanto qualche cosa di quello che è rimasto di un corpo. Ora, secondo me questo torso è commovente, se volete, nella sua essenzialità e c'è un parallelo strettissimo fra questo torso e i versi che scrive Pound nel poemetto intitolato Hugh Selwyn Moberly, pubblicato nel 1920, in cui c'è la sezione quarta e la sezione quinta di questo poemetto che parlano di quello a cui alludevo un minuto fa, e cioè di tutto questo wastage, di questo spreco di vite umane, di vite giovani, tutti questi giovani che sono morti nella prima guerra mondiale. Il poemetto di Pound, dicevo, ha queste sezioni che secondo me sono tra le grandissime poesie sulla guerra e contro la guerra. E vedere questo tronco che parla di mutilazione, di morte, e leggere la poesia di Pound vuol dire trovare una consonanza, e devo dire che io personalmente la trovo, come potrei dire, quasi consolatoria, nel senso che davanti a tutte queste grida, no? Sull'intervertismo, facciamo la guerra, come dicevamo prima i futuristi, tutti vogliono partecipare alla guerra, si ha invece questa sorta di commovente elegia, si potrebbe dire, sulla morte di questi giovani. E ricordo che questo cambiamento di visione, cioè questo pianto sui morti, lo si vede tantissimo anche in tutti i poeti inglesi che partecipano alla guerra, che inizialmente possono avere, come dicevo un secondo fa, degli ideali appunto di democrazia, eccetera, lo si vede nei grandi scrittori americani, perché se voi pensate a un romanzo che sicuramente avete letto, che è Addio alle armi, Farewell to Arms, lì a un certo punto il protagonista, se vi ricordate, fa la pace separata e viene via dall'orrore della guerra, non ce la fa più a sopportare gli orrori della guerra. Per cui abbiamo appunto questo tronco, questo pezzo di corpo che corrisponde appunto come in una scultura elegiaca a quello che scrive e leggiamo la quarta e la quinta sezione, sono brevissimi, dal Moberly. These fought in any case and some believing, prodomo in any case, some quick to arm, some for adventure, some from fear of weakness, some from fear of censure, some for love of slaughter in imagination, learning later, some in fear, learning love of slaughter, quindi all'inizio ci sono le ragioni per cui, perché combattono questi giovani nella prima guerra mondiale, per avventura, per paura della debolezza, per paura di critiche, per amore del massacro nell'immaginazione, imparando dopo, imparando anche l'amore del massacro. Questo è quando uno incomincia a partecipare alla guerra. E poi Died, sam pro patria, non dulce, non et decor, walked eye deep in hell, believing in old man's lies, then unbelieving came home, home to a lie, home to many deceits, home to old lies and new infamy, usually age old and age thick and liars in public praises, daring as never before, wastage as never before, young blood and high blood, fair cheeks and fine bodies, fortitude as never before, frankness as never before, disillusions as never told in the old days, hysteria, trench confessions, laughter out of dead bellies. Quindi qui di nuovo c'è quest'idea della partecipazione alla guerra che non è uno combatte non dulce, et non decor, non et decor, e si cammina fino agli occhi nell'inferno. Quindi è una resa drammatica della partecipazione alla guerra, il ritorno alle bugie della pace, e poi di nuovo l'elenco di questi bei corpi, no? Fair cheeks, belle guance, bei corpi che vengono distrutti, fortitude, fortitudine come mai prima, frankness, franchezza come mai prima, disillusions, hysteria, quindi disillusioni, isteria e laughter risate dalle pance morte. Sono tutte immagini molto forti che danno l'idea appunto di questa guerra di trincea terribile che è stata la prima guerra mondiale. E poi la brevissima, ultima, quinta sezione, scusate, quinta sezione, non è l'ultima, è l'ultima che abbiamo noi. There died a myriad, and of the best among them, for an old bitch gone in the teeth, for a botched civilization, charm smiling at the good mouth, quick eyes gone under earth's lid, for two growths of broken statues, for a few thousand battered books. C'è proprio questa visione nichilista, se volete, della partecipazione alla guerra, ne morirono una miriade e dei migliori tra di loro per una vecchia cagna bitch, gone in the teeth, sdentata, per una civiltà botched, ormai rovinata. Quick eyes, gli occhi dei vivi, quick vuol dire vivo, no? The quick and the dead in inglese, andati sotto la terra, per due dozzine di statue rotte, per pochi libri vecchi. Ovviamente Pound non rifiuta la tradizione e non vuole buttare tutto a mare, però l'idea è che questo spreco di giovane vite è stata una cosa terribile. E io credo che questa poesia di Pound sia tra le grandi poesie contro la guerra. Questo torso, ripeto, va collegato con queste grandi poesie e con questa visione, appunto, drammatica, tragica, negativa della guerra. Ci spostiamo adesso a quella statua lì, che è il famoso ritratto fatto da Godier Bresca. E io vi farò girare questo libretto, se volete, e se volete guardarlo un momento anche dove ci sono i segni, ci sono delle fotografie di Godier Bresca, che sta scolpendo da un blocco di marmo questa, se volete girarvelo, questa figura, anche se volete un momento vedere le altre immagini. Con Godier Bresca siamo davanti a uno di questi giovani artisti morti durante la guerra. Esattamente uno di questi per cui Pound scrive questi meravigliosi versi nel Moberly. Godier Bresca è un francese che inizialmente non vuole minimamente arruolarsi, ma anche lui viene preso da questa follia di partecipazione, da questa ansia di partecipazione e si arruola in Francia, evidentemente lui è francese, e muore nel giugno del 1915 a 23 anni. Muore quindi giovanissimo e scrive queste lettere dalle trincee, che sono delle lettere impressionanti e terribili. Venne leggo una, rivolta sempre a Ezra Pound, dire Ezra, «Je reviens d'un affaire d'où peu échappe. Avantier, dans la nuit, ma compagnie a operare un'attaque contro la route de Prussien, contro la route, scusate, où de Prussien était installé, nous y sommes allés alla baionette. Quindi scrive a Ezra che ritorna da un inferno da cui pochi si salvano. In realtà, subito dopo, Gaudet-Brescat non si salva da questo inferno e nel 5 giugno del 1915 muore, come dicevo prima, a 23 anni. Ora, questo artista è amico di Pound e viene visto come uno dei grandissimi artisti scultori da Pound. e Pound scrive un libretto, chiamiamolo, che si intitola Gaudet-Brescat, in cui mette insieme dei materiali che riguardano appunto il... che riguardano Gaudet-Brescat, che riguardano non soltanto Gaudet-Brescat, ma riguardano anche quello che Gaudet-Brescat scrive dalle trincee rispetto alla scultura e sono delle pagine molto interessanti che riguardano il vortice, siamo qui alla mostra sul vorticismo, e che riguardano l'arte in un momento di grande tragedia come quello appunto delle trincee. Questi passi che vengono stampati su Blast, ve ne leggo qualcuno. questi sono passi sul vortex, vortici, scritti da Gaudet-Brescat, non da Pound, da Gaudet-Brescat, ma Pound poi li riproduce nel suo libretto su Gaudet-Brescat. Vi leggo qualche cosa. L'energia della scultura è la montagna, il sentimento della scultura è l'apprezzamento delle masse in relazione, l'abilità della scultura è la definizione di quelle masse mediante piani. il vortice paleolitico, scritto tutto in maiuscolo, diede come frutto la decorazione delle caverne della Dordogne. In questo esame, se volete dire, che cos'è il vortice nel senso della storia, Gaudet-Brescat passa in rassegna le arti del mondo, se volete, e delle varie epoche. Incomincia con le caverne della Dordogne, quindi con gli antichi, come si chiamano? Le rupestre. Esattamente, le pitture rupestre, poi va avanti a vedere il vortice degli egiziani, degli indiani, dei semiti, dei cinesi. Vede il vortice come in scultura l'energia che distrugge ogni altra forma, la sfera, il cilindro, e arriva nella sua disquisizione all'oggi e scrive «E noi, i moderni, Epstein, Brancusi, Arcipenco, Dunikovsky, Modigliani e io stesso, nell'incessante lotta nella città complessa, anche noi dobbiamo impiegare molta energia. La conoscenza della nostra civiltà abbraccia il mondo, abbiamo dominato gli elementi». Parla della distruzione di questi oggetti, la sfera, il cubo, e arriva a dire «La volontà e la consapevolezza sono il nostro vortice». Allora, siamo qui alla mostra sul vorticismo. Il concetto di vortice è evidentemente importantissimo. Per Godier-Brescat il vortice è psicologico, se volete, è la volontà e la consapevolezza, quella che fanno agire l'artista, il quale non deve cambiare la sua idea nemmeno quando è nelle trincee e deve credere nella propria arte. questo vortice da chi era stato definito e cos'era? E qui io devo dire che vi do delle ipotesi, nel senso che io credo, ma non sono al 100% sicura, che la prima persona che abbia definito il vortice sia stata in realtà Ezra Pound, il quale scrive un saggio intitolato, in cui appunto parla del verticismo, che viene pubblicato il primo settembre del 1914. Attenzione alle date, primo settembre del 1914. Il primo numero di Blast, la rivista del vorticismo fondata da Wyndham Lewis, esce, dovrebbe uscire il 20 giugno del 1914, in realtà esce il primo luglio del 1914. Quindi, sembrerebbe che Blast, con il vorticismo, esca prima del saggio di Pound. Peraltro, sembra che Pound avesse espresso a voce durante delle conferenze queste sue concezioni del vortice. In ogni modo, il concetto di vortice, diciamo, prende piede e si diffonde nella prima parte del 1914. Alla fine del 1913 c'è un grande dibattito sulle nuove arti e Pound naturalmente prende parte a questo dibattito. Lui non è uno scultore, però prende parte al dibattito sulle arti e in questo saggio pubblicato, come ripeto, il primo settembre del 1914 praticamente discute del vorticismo di questo nuovo movimento applicandolo però alla poesia. Siamo appunto al momento in cui tutto deve essere in movimento, tutto deve essere in movimento e il vorticismo riguarda anche la poesia. La poesia in che senso? Allora, per Pound sicuramente il vorticismo serve ad uscire da quello che era uno stato di, potrei dire, di la parola che cerco, uno stato di l'inverso di movimento, di staticità, ecco, di staticità, che era quello che in fondo era stato provocato dall'immagismo. L'immagismo è questa corrente poetica che ha il suo manifesto del 1913 con il manifesto des imagistes in cui appunto l'idea è che l'immagine non è come ma presenta il concetto. Questo movimento è molto importante nella poesia però ha una certa staticità. Il vorticismo è quello che serve ad uscire se volete dalle secche dell'immagismo. Ora, i legami tra Epstein e quindi questo scultore e Godier-Bretzka quello scultore Wyndham Lewis e Blast la rivista sono strettissimi e certe volte è anche difficile dire chi ha avuto l'idea del termine ma sicuramente sono idee che circolano e io sono forse persuasa che Pound con questa sua intelligenza straordinaria con questa sua abilità di lavorare in diversi campi di mettere in rapporto le persone abbia inventato il termine Vortex. Il dibattito si sviluppa sulle pagine diverse riviste e voi qui andando avanti nella mostra vedrete che ci sono alcune riviste interessanti anche aperte su pagine interessanti come vedremo fra un momento. Blast come forse abbiamo già detto naturalmente indica scoppio e quindi ci rifacciamo alla poetica del frammento l'idea dello scoppio lo scoppio purtroppo è anche la guerra naturalmente perché c'è anche c'è lo scoppio delle bombe e da questi frammenti di poetiche si ricostruisce una nuova poetica per Pound quando intitola Rock Drill I Cantos del 1955 c'è un'altra cosa molto interessante riguardante la frammentazione la frammentazione dei codici che la frammentazione per Pound arriva perfino a coinvolgere la scrittura in che senso non è un caso che in questo 1913 Pound si stia occupando delle carte che gli sono state date dalla vedova di un famoso studioso dell'Oriente Fenollosa e si stia occupando degli ideogrammi l'ideogramma come diciamo scrittura permette di vedere due concetti espressi attraverso i due disegnetti chiamiamoli dell'ideogramma per esprimere qualche cosa cioè l'ideogramma è un tipo di scrittura molto diversa dalla scrittura dell'alfabeto nostro e dà l'idea di una simultaneità di due concetti nella stessa chiamiamola lettera chiamiamola ideogramma allora non è un caso io credo che Pound si stia occupando degli ideogrammi che permettono questa simultaneità dei concetti in questo 1913 1914 e che poi i cantos pubblicati nel 1955 siano fittissimi di ideogrammi è come se anche la lingua sia scoppiata e si possono usare altre forme di scrittura la bellissima statua Hieratic Head la bellissima testa di Godiebrezka voi questa qui è quella che viene chiamata replica credo di solito che normalmente voi potete vedere a San Giorgio quando scendete nel vaporetto entrate nel chiostro andate verso il giardino c'è questa specie di piccolo giardinetto rientranza tenuto molto bene con quella statua lì ce n'è un'altra che è credo a Washington e se qualcuno vuole vedere il libretto che sta circolando ci sono anche delle foto di questa Hieratic Head quando era a Brunnenburg nel castello dove la figlia di Pound viveva e tuttora vive è una statua che ovviamente partecipa di questo linguaggio delle avanguardie anche per l'uso non solo della stilizzazione e dei piani ma anche per l'uso di questo riferimento alle arti africane naturalmente c'è dietro Picasso c'è dietro tutto questo uso delle arti africane ma su questo non voglio fermarmi e voglio andare avanti e vi ho tenuto in piedi troppo allora passiamo rapidamente attraverso le sale guardate le riviste se volete ricordatevi che la Dorothy Shakespeare i cui quadri sono appesi nella terza quarta sala è la moglie di Ezra Pound ricordatevi quello e andiamo avanti allora naturalmente ci sarebbero moltissime altre cose a dire diciamo nell'altro percorso nel resto del percorso della mostra ma vi ho già tenuto in piedi abbastanza e mi scuso e poi ripeto ci saranno i miei colleghi che parleranno di Wyndham Lewis di Godie Bresca e di altre cose a completare questa interpretazione letteraria diciamo della mostra io però ci tenevo a fermarmi un momento in questa sala dove ci sono le fotografie e precisamente i vortographs o vortografie di questo straordinario Alvin Coburn nella prima sala voi avete visto i ritratti cioè fotografici dei personaggi dei vorticisti che sono ritratti molto belli ma in un certo senso sono delle fotografie tradizionali nel 1916 Pound dichiara di aver inventato con Coburn la vortografia in realtà non so se Pound si vanti di averla inventata con Coburn o se l'abbia inventata Coburn stesso non lo so lui scrive una lettera in cui dice lui Pound dice al padre abbiamo Coburn e io inventato la vortografia che cos'è questa vortografia la vortografia è un tipo di fotografia che partece se volete di questa nuova estetica dei vorticisti per una particolare arte che è appunto la fotografia cioè questa frammentazione di cui parlavamo prima e ricostruzione di qualcosa di diverso attraverso la frammentazione viene fatta attraverso una macchina la macchina si chiama il vortoscopio e vi leggo che cos'è il vortoscopio il vortoscopio è una macchina composta da tre specchi fissati insieme nella forma di un triangolo gli specchi agiscono come un prisma spaccando in segmenti l'immagine formata dalla lente questo è Coburn che scrive e Coburn aggiunge gli oggetti che fotografavo di solito erano pezzetti di legno o di cristallo allora quello che io trovo straordinario è che questo fotografo che è americano che va in Europa varie volte e poi nel 1909 mi sembra 1912 scusate si trasferisce a Londra definitivamente questo giovane fotografo praticamente usa le novità diciamo i nuovi linguaggi per una per la fotografia per fare qualche cosa di veramente nuovo chi era questo Coburn? Coburn è uno stranissimo personaggio arriva a Londra che ha circa 30 anni e che cosa ha fatto negli anni precedenti intorno al 1906 fate conto è stato quello a cui il grandissimo scrittore americano Henry James ha chiesto di illustrare la cosiddetta New York Edition delle sue opere cioè Coburn fa delle fotografie che vengono messe nella edizione diciamo di tutte le opere di James quelle che lui sceglie naturalmente e questo avviene le fotografie le fa tra il 1906 il 1907 ora secondo me questa cosa è molto interessante perché James sembra capire quella che è l'intelligenza di questo giovane fotografo e c'è una corrispondenza tra James e Coburn in cui James dice che cosa fotografare che cosa fare Coburn risponde anche per esempio alle fotografie qua a Venezia quando Coburn deve fotografare Palazzo Barbaro per The Wings of the Dove le ali della colomba e il romanzo di James non riesce a fotografare Palazzo Barbaro bene allora James dice vai al di là del canale grande vai su una barca cerca di fotografarlo e poi alla fine dice ma se non riesci a fotografare quel palazzo non importa fotografa un qualsiasi altro palazzo che renda l'essenza di Venezia ecco questa corrispondenza è molto interessante allora noi abbiamo questo grandissimo scrittore che usa le fotografie di questo giovane fotografo il quale poi si sviluppa diciamo da un punto di vista della della novità e fa questi vortografi e qui avete tre fotografie che sono straordinarie di Pound con questa immagine doppia che vedete lì l'immagine mossa con i piani come uno sopra l'altro e questa immagine di Pound poi avete le immagini di questi cristalli di cui dicevo prima e questi vortografi che fa Coburn Coburn finisce male perché dopo aver fatto tutte queste novità a un certo punto si innamora dell'astrologia si innamora della massoneria fa delle cose molto strane e perde questa sua carica innovativa che aveva appunto intorno a questi anni nel catalogo della mostra ma non mi pare che sia qui c'è una fotografia del 1912 intitolata The Octopus che è una fotografia vista dall'alto in cui c'è proprio l'idea dell'astrazione disegnata dalla fotografia non è ancora una vortografia ma è una immagine assolutamente astratta quella non è ancora una vortografia sono queste fatte dal vortografo diciamo il vortoscopio scusate la macchina ecco naturalmente fa delle mostre fa una mostra a Londra nel 1913 di fotografia che sono soprattutto le fotografie dei grandi uomini tipo quelle che abbiamo visto nella prima sala e poi appunto Coburn procede con queste vortografs che vedete qui comprese queste di Pound io mi fermerei qui e vorrei soltanto per finire sottolineare come nei rapporti con Epstein con Godebrezka con Coburn Dorothy Shakespeare è la moglie di Pound ci sia sempre questa presenza di Pound il quale è un personaggio di una straordinaria importanza nel mettere in contatto le persone e nel diffondere le idee per quanto riguarda Wyndham Lewis non vi ho detto quasi niente è importantissimo il rapporto con Wyndham Lewis ma di quello vi parlerà il mio collega amico Armando Paelic vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti